Recording Buongiorno a tutti Allora oggi l'insieme in queste bellissime tre ore faremo una introduzione direi al linguaggio javascript sarà una lunghissima introduzione a questo linguaggio cercherò di condensare tutto in tre ore ovviamente è un po' difficile condensare tutto in tre ore quindi spero che il livello di caffè che avete nel corpo sia sufficiente non so se riusciremo a fare degli esercizi oggi li vedrete sicuramente in laboratorio nel prossimo e anche in quello dopo vedremo che javascript è un linguaggio di programmazione che può anche essere utilizzato per conto suo noi andremo a utilizzare javascript nel browser quindi associeremo javascript ovviamente ai nostri siti web per aggiungere dei comportamenti dinamici alle nostre applicazioni web ma javascript può anche funzionare come linguaggio di programmazione stand alone oggi vedremo l'introduzione a javascript in generale non necessariamente legata al browser, ai siti web questo è il motivo per cui il prossimo laboratorio sarà l'unico direi staccato dal social network che stiamo sviluppando in questo corso saranno degli esercizi in javascript puro per impratichirsi bene con questo nuovo linguaggio poi nell'ultimo laboratorio invece e nelle prossime lezioni vedrete come integrare javascript nel browser quindi nei nostri siti web ok quindi javascript il linguaggio del web perché il linguaggio del web perché è l'unico linguaggio di programmazione che è nativamente supportato dai browser ok può essere eseguito nativamente dai browser ed è l'unico linguaggio di programmazione a tal scopo gli obiettivi di oggi un po' ambiziosi forse introdurre javascript capirne la semantica e alcuni pattern di programmazione che si usano con questo linguaggio poi tre concetti fondamentali che vedremo probabilmente nella seconda parte oggetti, funzioni e date sono tre ingredienti del linguaggio che ci serviranno poi per essere aggiunti ai nostri siti web al nostro social network per esempio di nuovo vedremo javascript in questo corso essenzialmente legato al browser cioè ai siti web anche oggi per lanciare questi programmini di prova useremo comunque il browser come runtime environment ma di nuovo javascript può anche essere utilizzato come linguaggio di programmazione stand alone sui nostri pc e questo è il lungo elenco di cose che cercheremo di vedere oggi quindi partiamo da una rapida introduzione al linguaggio questa figura ci rappresenta un po' come i maggiori linguaggi di programmazione si sono evoluti nel loro ranking negli ultimi anni come vedete ci sono linguaggi di programmazione la cui popolarità è leggermente scesa tipo java altri per cui la popolarità è salita di molto tipo objective c e poi c'è javascript che ha questa lunga linea piatta proprio perché è l'unico linguaggio di programmazione che viene supportato dai browser e quindi è l'unica scelta che abbiamo per aggiungere dei comportamenti dinamici ai nostri siti web poi ovviamente ci sono una serie di framework di librerie che costruiscono sopra javascript ad esempio il framework react è uno di questi ma sono comunque framework che sfruttano javascript nativo per offrirvi funzionalità in più per offrirvi un aiuto in più però di nuovo javascript è l'unico linguaggio supportato nativamente dal web quindi javascript è a tutti gli effetti un linguaggio di programmazione come vi dicevo può anche essere eseguito su un pc così come qualunque altro linguaggio di programmazione tipo c e python grazie a questa libreria node.js che purtroppo non vedremo in questo corso ma installando node.js sul proprio computer si possono lanciare programmi scritti in javascript senza la necessità di utilizzare un browser non so quanti di voi sappiano qualcosa di java ma javascript non ha niente a che fare con java hanno scelto questo nome solo per ragioni di marketing visto che java a quel tempo era un linguaggio di programmazione popolare hanno detto chiamiamolo javascript così magari qualcuno lo confonde con java ma non ha niente a che vedere con java e la prima versione fu scritta in solamente dieci giorni e questo è il motivo per cui con la prima versione di javascript si possono fare un sacco di porcherie e il problema qual è? è che lo vedremo a breve javascript è compatibile verso il futuro nel senso tutto quello che si poteva implementare fare con la prima versione di javascript può ancora essere eseguito al giorno d'oggi nelle versioni di javascript contemporanee quindi bisogna fare attenzione quando si scrive javascript a evitare di scrivere cose di cui poi ci si può pentire perché la prima versione di javascript vi permette di fare tante cose anche brutte e bisogna capire che cosa si sta facendo quando si scrive codice in javascript fortunatamente nelle ultime versioni ci sono tutte una serie di strumenti per evitare che queste cose accadano quindi nelle versioni contemporanee di javascript potete usare determinati strumenti tipo scrivere, lo vedremo use strict all'inizio di un file in modo tale che il linguaggio non vi permetta di fare cose che è meglio non fare tipo utilizzare una variabile prima di averla definita questa è una delle classiche cose che con la prima versione di javascript si può fare ma è bene non fare perché può facilmente indurre ad errori e problemi dicevamo questa è la prima versione di javascript scritta in dieci giorni nel 1995 da queste due compagnie Netscape e Sun quindi è stato scritto da da queste due compagnie e poi questa società questa organizzazione ECMA a partire dal 1997 è iniziato a cercare di standardizzare un po' questo linguaggio e annualmente rilascia una nuova versione di javascript con nuove funzionalità eccetera noi in questo corso ci focalizzeremo su ECMA script 6 che è una versione di javascript del 2015 che è la versione di javascript che ha introdotto i maggiori cambiamenti rispetto alle versioni precedenti quindi non c'è molta differenza con edmascript 7, 8 eccetera quindi ci focalizzeremo su questa versione ES6 ok questo è quello che abbiamo detto direi adesso c'è anche una documentazione fornita da questa organizzazione ECMA che però è veramente difficile da leggere contiene veramente tantissime informazioni anche legali ed è difficile estrarre informazioni da queste documentazioni ma online come sempre trovate una quantità infinita di risorse quindi vi consigliamo di utilizzare altri tipi di documentazione rispetto allo standard vero e proprio allora come fa javascript ad essere eseguito tramite degli engine javascript che si preoccupano di capire il linguaggio javascript e eseguirlo abbiamo diversi motori engine javascript ad esempio v8 è quello sviluppato da google e che quindi è utilizzato ad esempio in chrome nel browser chrome c'è questo engine javascript che può eseguire il vostro codice ma è anche utilizzato da node.js quindi quello strumento con cui riusciamo a eseguire programmi javascript sul nostro pc anche lui sfrutta lo stesso engine javascript ed è anche sfruttato da microsoft edge ok ce ne sono altri però ad esempio spider monkey utilizzato da firefox quindi sviluppato da mozilla e poi ce ne sono altri c'è un engine apposito sviluppato da apple che gira su safari cosa vuol dire questo abbiamo diversi engine sviluppati da compagnie diverse vuol dire che non tutto è compatibile purtroppo noi abbiamo il linguaggio javascript che offre determinati metodi funzioni e ogni versione di javascript aggiunge nuovi metodi nuove funzioni purtroppo non tutte queste funzioni e metodi sono compatibili su tutti i browser ad esempio non si vede molto qua ma qui abbiamo una serie di metodi offerti da una delle ultime versioni di javascript vabbè non è importante capirli ma ad esempio abbiamo che il metodo client client qui è supportato da chrome dalla versione 42 in avanti ad esempio e non è supportato da internet explorer per esempio quindi se il vostro codice fa un uso di questi metodi e viene utilizzato ad esempio su internet explorer che non supporta nessuno di questi metodi il vostro programma il vostro sito semplicemente su internet explorer non funzionerà ok almeno per quanto riguarda quella parte che coinvolge quel metodo quindi quando scriviamo in javascript bisogna anche cercare di capire se i metodi le strategie che utilizziamo sono poi utilizzabili almeno sui motori di ricerca più popolari tipo google e firefox e forse safari ok questo è dovuto proprio al fatto che abbiamo diversi motori sviluppati da aziende diverse lo dicevo prima javascript è backwards compatible questo significa che quando qualcosa è accettato come valido nel mondo javascript non ci saranno mai dei futuri cambiamenti nelle release successive che vieteranno di fare quello che si poteva fare in precedenza ok quindi i creatori di javascript hanno proprio definito questo motto we don't break the web cioè qualcosa che è stato scritto anni fa che è ancora presente nel web deve ancora poter funzionare senza necessariamente richiedere la riscrittura dell'intero sito web ad esempio questo però ovviamente crea anche dei problemi perché di nuovo abbiamo la possibilità di usare degli strumenti che sono anche pericolosi se non si sa quello che si sta facendo con questo linguaggio non è compatibile al contrario però quindi i nuovi metodi che vengono introdotti ogni anno dalle nuove release non funzionano magari su engine javascript più vecchi come abbiamo visto prima internet explorer che probabilmente è fuori produzione direi perché c'è Microsoft Edge ma non supporta tutta una serie di metodi che sono stati aggiunti dopo in seguito una cosa importante lo accennavo prima è questo strict mode che è stato introdotto direi a partire dalla versione di javascript che vediamo in questo corso scrivendo una semplice stringa all'inizio dei nostri file javascript use strict riusciamo a disabilitare alcuni alcuni metodi delle versioni di javascript precedenti quindi se noi specifichiamo use strict poi non possiamo ad esempio utilizzare una variabile prima di averla definita ok però funziona se lo specifichiamo noi siamo noi che dobbiamo scrivere use strict se non lo specifichiamo non vietiamo proprio un bel niente quindi è solo uno strumento per aiutarci ad evitare pattern di programmazione pericolosi vabbè c'è anche il modo di supportare versioni diverse attraverso dei tool che si occupano di tradurre un file scritto in javascript da una data versione ad un'altra ma direi che questo non lo utilizzeremo sicuramente nell'ambito di questo corso allora come possiamo eseguire codice javascript questa figura questo grafico riassume quello che ho detto abbiamo javascript egmascript 6 possiamo eseguirlo sul nostro pc su un computer su un server tramite node.js quindi installando node.js sui nostri sui nostri computer possiamo eseguire javascript nel browser che è l'obiettivo di questo corso quindi a runtime quando lanciamo apriamo un sito web possiamo utilizzare javascript per aggiungere dei comportamenti dinamici al nostro sito cosa succede quando io clicco su un bottone cosa succede quando voglio filtrare ad esempio i post del mio social network lo posso fare senza dover per forza interagire col server ok potrei pensare di attraverso javascript ad esempio filtrare i miei post sul social network direttamente sul client sul computer dell'utente qui possiamo aggiungere tutta una serie di comportamenti dinamici abbiamo poi anche dei tool molto utili utilizzeremo direi javascript tutor che sono dei tool online del sito web che vi permettono di eseguire del semplice codice javascript ad esempio javascript tutor se riesco ad aprirlo vediamo che in realtà il sito web si chiama python tutor perché magari l'avete già visto mi ricordate avete fatto python al primo anno quindi probabilmente conoscete anche python tutor permette anche di scrivere del codice in javascript quindi qui da python tutor punto com posso andare su javascript e scrivere del codice javascript qui eseguirlo e visualizzarne l'esecuzione ad esempio in memoria ok ad esempio qui poi vedremo che cosa significa in questo caso let sto definendo una variabile in cui inserisco il valore 5 e poi lo stampo sulla console del browser console.log a ok ora non preoccupatevi se non capite ancora la sintassi ma posso visualizzare l'esecuzione di questo codice javascript e lo posso fare anche eseguendo riga per riga eseguendo riga per riga il tool mi fa anche vedere come questi valori vengono salvati in memoria però è un modo semplice per provare del codice senza dover aprire un browser eccetera ok questo era un esempio su javascript tutor un altro modo per scrivere del codice provarlo rapidamente è utilizzare direttamente la console del browser perché ripetiamo javascript è un linguaggio che è nativamente supportato dal browser quindi io posso semplicemente aprire la console di google chrome ad esempio dagli strumenti per sviluppatori ok e qui nella console posso direttamente scrivere del codice javascript posso definire delle variabili è un po' piccolo scusatemi ma fidatevi di nuovo let a uguale 5 ho definito la variabile a vabbè poi mi da un undefined cerca di stampare un output però l'ho definita quella variabile e la posso usare ad esempio posso eseguire un alert che è quel pop up che appare sullo schermo no ho scritto alert scusate ho scritto alert 5 voglio scrivere alert a per far vedere che ho definito una variabile e la posso usare vedete questo alert mi apre un pop up in cui posso cliccare ok e qui c'è il valore 5 che era contenuto nella variabile a cioè posso scrivere del codice javascript direttamente nella console del browser ok ok allora cerchiamo di capire un po' meglio come è strutturato il linguaggio allora in javascript un file un file con l'estensione .js è un programma javascript ok e ogni file è caricato in memoria indipendentemente quindi ad esempio nel nostro in un nostro sito web così come importiamo i file css abbiamo l'opportunità di caricare uno o più file javascript uno o più file .js e questi file ogni file corrisponde a un programma e questi file possono anche comunicare tra loro attraverso il global state ok e poi c'è il meccanismo dei moduli che estende questo questo global state e vi permette di far comunicare i vostri file in un modo più più pulito è importante dire che il file è prima parsificato dall'inizio alla fine e poi eseguito dall'inizio alla fine questo è il motivo per cui potete usare una variabile almeno in teoria prima di averla dichiarato dichiarata perché il file viene comunque prima parsificato tutto letto tutto riga per riga prima di venire prima di essere eseguito ovviamente il consiglio di non farlo questa cosa e di utilizzare sempre lo street mode che lo vieta JavaScript poi si basa su una standard library così come c'è la standard library di Python ad esempio che dovreste già conoscere che vi fornisce già diversi metodi funzioni che potete usare anche qui c'è una standard library e poi ci sono anche API aggiuntive offerte dall'environment su cui eseguite il codice ok se eseguite il codice sul vostro pc attraverso Node.js avete degli strumenti particolari se invece eseguite il codice sul vostro browser quindi all'interno di un sito web avrete degli altri strumenti ad esempio tramite JavaScript lo vedremo tramite JavaScript caricato da un sito web non avete la possibilità di accedere al file system del pc ok non avete la possibilità di aprire un file in locale perché questo secondo voi i file JavaScript sono scritti dallo sviluppatore del sito web giusto e poi caricati dal sito web così come carichiamo i file CSS no se avessi la possibilità di accedere al file system del computer su cui il sito web sta girando capite che potrebbe essere un problema perché io sviluppatore del sito potrei accedere ai file magari privati dell'utente no quindi questa possibilità di accedere al file system attraverso il browser è ovviamente negata non è possibile farlo invece è possibile farlo se il vostro JavaScript gira direttamente sul vostro pc tramite Node.js quindi a seconda del execution environment quindi se siamo su un sito web se siamo in locale sul vostro pc avete anche strumenti diversi poi JavaScript è scritto in Unicode questo vuol dire che supporta anche caratteri strani addirittura le emoji ma evitiamo evitiamo di farlo di usarle direi che non difficilmente definiremo una variabile di questo tipo e anche i punti e virgola non sono obbligatori d'accordo e qualche volta vengono anche automaticamente inseriti ma vedremo che cercheremo invece di inserirli sempre manualmente vedremo perché linguaggio è case sensitive quindi lettere minuscole diverse da lettere maiuscole i commenti sono come in C voi non so se avete visto il C a questo punto sì bene tutti no ok per chi ha visto il C i commenti si fanno nello stesso modo del C quindi se voglio scrivere dei commenti multilinea posso usare la prima versione qui slash asterisco commento 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 e poi asterisco slash per chiudere il commento altrimenti se mi interessa solo inserire un commento di una riga doppio slash e semplicemente commento la singola la singola riga vabbè ovviamente ci sono alcune parole riservate che non posso usare per definire le variabili come in tutti i linguaggi la sintassi è simile al C ok come sintassi in realtà poi il comportamento vedremo che è simile al Python ok questo invece dovreste conoscerlo tutti dicevo dei punti e virgola è un argomento di dibattito nella comunità degli sviluppatori javascript c'è chi dice che vanno inseriti c'è chi dice chi se ne frega non li inseriamo javascript prova a inserire questi punti e virgola in modo automatico ad esempio quando la linea successiva inizia con una parentesi graffa eccetera ma in alcuni casi javascript non lo aggiunge in automatico ad esempio una nuova linea a new line non inserisce in automatico il punto e virgola e questo è un problema se poi la riga successiva inizia con una parentesi tonda ad esempio perché senza il punto e virgola javascript interpreta questo come l'invocazione di una funzione ok quindi per convenzione noi seguiamo le guideline di google che potete trovare qui e inseriamo sempre il punto e virgola alla fine di ogni istruzione d'accordo cosa che si fa in c quindi questa è una convenzione che ci diamo così come ci diamo la convenzione di usare sempre lo strict mode eccolo qui quindi lo strict mode è semplicemente una direttiva aggiunta da ecmascript 5 è una stringa che va scritta all'inizio di un file .js quindi all'inizio dei nostri file javascript è ovviamente compatibile con le versioni precedenti perché è semplicemente una stringa quindi viene semplicemente ignorata dalle versioni precedenti di javascript però da elmascript 5 in avanti questa direttiva permette di evidenziare degli errori per cose che non dovremmo fare ad esempio se io vado su javascript tutor vediamo se riesco a cambiare il codice ok facciamo un po' di zoom se riusciamo ok direi che javascript tutor in questo caso di default utilizza lo strict mode ma possiamo anche specificarlo se vogliamo quindi la prima riga è la direttiva use strict con questa direttiva ad esempio noi non possiamo fare una cosa del genere dire una variabile anzi facciamo così console.log di a quindi proviamo a stampare una variabile prima di averla definita e magari poi la definiamo dopo let a uguale 5 proviamo a stampare 5 prima di averlo definito senza lo strict mode questa cosa funzionerebbe ok stamperebbe veramente 5 con lo strict mode noi andiamo incontro direi a un errore vedete riusciamo a bloccare il codice stampando un errore a is not defined ok senza strict mode non avremmo questo errore funzionerebbe ora se sappiamo cosa stiamo facendo possiamo anche adottare questa tecnica ma se non sappiamo stiamo utilizzando per sbaglio questa cosa qui è ovvio che è un problema e quindi ci mettiamo al riparo da ogni problema utilizzandolo lo strict mode allora vediamo come possiamo caricare javascript nel browser quindi l'execution environment che usiamo in questo corso allora javascript si importa un po' come importiamo i file css abbiamo innanzitutto una prima un primo distingo da fare possiamo importare del codice javascript direttamente in line utilizzando questo tag script all'interno del del led ok quindi apro il tag script scrivo il mio codice javascript direttamente lì nel file html chiudo il tag script questa è la prima opzione caldamente sconsigliata possiamo avere anche un caricamento esterno quindi al posto di avere il codice javascript direttamente nel tag script nel tag script specifichiamo un sorgente come per i file css e quindi qui inseriamo il path name del nostro file javascript che sarà magari nella cartella static non so ok questo è il primo distinguo adesso avendo appurato che questa link line è sconsigliata meglio sempre avere un file esterno dove inseriamo questo questo tag script dove carichiamo il nostro file abbiamo anche qui due possibilità nel led come vedete qui dalla figura che forse è la soluzione più pulita no è lì dove anche carichiamo il css e così a primo impatto mi verrebbe da dire ok tutto quello che mi serve lo carico nel led se lo facciamo così però è veramente inefficiente il nostro sito web diventa veramente inefficiente perché perché il il processamento del file html quando incontra questo tag qua viene stoppato fino a quando lo script javascript è caricato e eseguito ok quindi quando inizia il processamento dell'html inizio dal led bla 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 trovo uno script mi fermo prima addirittura di processare il body quindi banalmente voi vedrete una pagina bianca sul vostro browser e il processamento non riparte fino a quando questo file javascript è processato caricato ed eseguito quindi è inefficiente come processo perché blocca il rendering della pagina e un altro inconveniente è che lo script è eseguito ovviamente prima che la pagina sia caricata prima che la pagina web sia caricata ma lo scopo del javascript è proprio quella di andare a modificare la pagina no ad esempio togliendo dinamicamente qualche post dal nostro social network se stiamo filtrando i post ad esempio come faccio a filtrare i post se i post non sono ancora stati visualizzati e quindi c'è anche questo inconveniente quindi ci verrebbe da dire carichiamo lo script carichiamo lo script al fondo del body dove siamo sicuri che la pagina è stata caricata questa è un'alternativa che è stata tradizionalmente utilizzata per vari anni ok quindi prima in questo modo prima processo tutto l'html e carico ed eseguo il file javascript quando la pagina html è visualizzata sullo schermo ok quindi tra i due sicuramente meglio questa ok e questa figura questo grafico fa capire perché è meglio questa perché altrimenti il parsing dell'html si stoppa e occorre aspettare che il il file javascript venga eseguito invece se lo mettiamo al fondo del body tutto avviene quando l'html è pronto nelle ultime versioni di javascript fortunatamente sono stati introdotti due attributi del tag script async e defer che ci permettono di scrivere questo tag nel led in modo tale che il codice sia comunque più pulito ma di dire al compilatore direi quando caricare ed eseguire questo script javascript quindi lo script javascript è nel led ma non viene caricato ed eseguito prima ma in particolare noi ci focalizzeremo sul useremo e consigliate utilizzare questo attributo defer questo attributo defer dice ok inizia a parsificare l'html e in parallelo caricati anche il file javascript quindi il file javascript è caricato parallelamente al parsing dell'html e poi è eseguito solo quando l'html è pronto quindi riusciamo a disaccoppiare questa fase di fetch e questa fase di execute del codice javascript ed è l'approccio che vi consigliamo di utilizzare ok quindi facciamo un esempio pratico creiamoci direi una nuova cartella me la creo sul desktop esempio javascript ok poi la apro con visual studio code già qua non riesco a cercare a causa di zoom vediamo se lo troviamo eccolo qua e mi vado ad aprire la cartella vuota per il momento che ho appena creato sul desktop ok il mio progetto all'interno di questa cartella creo due file il mio solito file html chiamiamolo index.html vediamo se riesco a fare un po' di zoom preferences font size mettiamo 20 ok questo è il mio file html di nuovo facciamola semplice per il momento html il primo tag dovrebbe essere doc type html add e body ok non ci interessa il css è solo per mostrare come possiamo caricare javascript nel nostro programma nel nostro sito qui avremo che ne so un title e poi altri tag ma davvero non ci interessano al momento nella stessa cartella del progetto creo un altro file non così ok salvo questo ok va bene lo creo così creo un altro file chiamato app.js .js un file javascript ok quindi ora nel mio progetto nella mia cartella ho due file app.js index.html poi questo app.js magari se usate flask lo metterete nella cartella static non importa è comunque nella stessa cartella del progetto come faccio a importare questo file ma innanzitutto magari mettiamoci qualcosa in questo file come vi ho fatto vedere prima la funzione alert semplicemente visualizza un pop up con un messaggio per l'utente no? in un sito web qui possiamo scrivere quello che vogliamo ok questo è un esempio di funzione che è strettamente legata all'execution environment che stiamo utilizzando no? è un qualcosa che è presente sui browser questi pop up che appaiono non credo sia presente in no.js alert per esempio ok quindi in sostanza questo programma javascript semplicemente quando viene caricato dovrebbe aprirmi questo pop up allora proviamo cerchiamo di importare questo file nel nostro sito abbiamo detto possiamo farlo nel led script src e quindi andiamo a dare il path name del nostro file in questo caso siamo nella stessa cartella app.js lo possiamo fare nel led se usiamo l'attributo defer ok altrimenti lo mettiamo qui al fondo del body proviamo un po' a lanciare questo aprire semplicemente questo file index.html vado qui non qui qui index.html vedete ho lanciato il mio file .html effettivamente ho questo pop up quindi sono riuscito a caricare il mio file javascript e lui esegue in automatico il suo contenuto ok quindi questo è il modo con cui utilizzeremo javascript in questo corso ok e dove viene eseguito questo codice l'ho già accennato in parte prima viene lanciato eseguito in quello che si chiama un sandbox del browser cioè un ambiente protetto del browser che vi vieta di fare determinate operazioni tipo accedere al file system dell'utente in questo sandbox potete accedere a un set limitato di api quali? quelle offerte dalla standard library di javascript quindi i metodi offerti da javascript nativo e potete accedere a due diversi oggetti il browser object e il document object quelli che sono chiamati bom e dom cosa vuol dire che tramite javascript ad esempio voi potete accedere al dom della pagina che è questa rappresentazione ad albero di tutti i componenti del vostro sito web quindi avete una rappresentazione ad albero il dom della vostra pagina html e tramite javascript la potete modificare ad esempio cancellando un post dalla lista di post ok ad esempio cambiando il colore del titolo ok potete recuperare i vari elementi e cambiarne le proprietà questo è il dom il bom invece vi permette di accedere a determinate cose relative al browser in sé quindi attraverso il bom potete ad esempio accedere alla history di navigazione dell'utente questo è un classico esempio o allo schermo alla dimensione dello schermo eccetera e quindi potete accedere a questi questi tipo di api ovviamente potete avere più di un tag script quindi importare più di un file .js tutti questi file sono indipendenti tra di loro ma hanno accesso allo stesso global scope se volete avere una collaborazione tra i vari script è meglio strutturare il programma in moduli ma non so se avremo tempo di vederlo in questi corsi ok due parole su come effettivamente il codice è eseguito ovviamente un sito web è per sua natura assincrono basato su su eventi noi non sappiamo a priori quando l'utente cliccherà su un determinato bottone dobbiamo reagire a quell'evento no e quindi javascript è basato su eventi e su quello che è chiamato event loop eventi assincroni gli eventi che vengono generati ad esempio il clic di un bottone da parte dell'utente possono essere ovviamente gestiti possono essere gestiti da quelli che si chiamano event handlers che possono essere predefiniti ad esempio dal browser o possono essere definiti da voi no io posso definire un handler un event handler per gestire il clic ad uno specifico bottone dell'utente oppure possiamo semplicemente ignorare questi eventi ovviamente qual è il problema? il problema che è javascript è single threaded cioè sotto sotto tutto è sincrono ok le istruzioni vengono eseguite una alla volta quindi javascript adotta questo meccanismo di event loop per simulare questa questa programmazione asincrona vediamo un po' come funziona in sostanza abbiamo il motore javascript in cui c'è uno stack dove vengono inserite le varie funzioni che vengono chiamate e poi c'è una coda di eventi cosiddetto event loop ad esempio l'utente che clicca su un bottone l'utente che clicca su un bottone avrà associato un handler che non è nient'altro che una funzione che va eseguita esattamente quando l'utente clicca sul bottone come funziona javascript lavora in questo modo se c'è qualcosa nello stack ad esempio qualche nostra funzione che stiamo eseguendo eseguiamo quello che c'è lì quando lo stack è vuoto andiamo a vedere se c'è qualcosa nella coda di event loop ok quando però c'è una funzione qui nello stack che iniziamo ad eseguire nulla la può bloccare ok quindi il vostro event loop rimarrà in attesa questo è il motivo per cui in javascript è bene evitare codice bloccante ok ad esempio scaricare in modo sincrono un file da 100 giga altrimenti quando quell'operazione inizia sei bloccato lì fino a quando l'operazione non finisce ok quindi durante l'esecuzione del codice abbiamo due possibilità chiamare delle funzioni e questa chiamata di funzione fa sì che la funzione venga messa nello stack o schedulare eventi che vengono invece messi nella coda degli eventi e a ogni step l'interprete prima va a vedere nello stack e se non è vuoto prende fa la pop di un elemento e lo esegue se lo stack è vuoto prende il primo elemento che c'è nella coda di eventi ok siamo finalmente arrivati a vedere le prime cose di sintassi del linguaggio quindi types e variabili e di nuovo qui come funziona javascript è molto simile direi al python quindi in questo caso tutti avete visto python giusto e quindi molti concetti sono simili innanzitutto valori e tipi come in python il tipo è associato al valore non alla variabile giusto python è un linguaggio dinamicamente tipizzato in cui appunto il tipo è associato al valore e una variabile può durante l'esecuzione di un programma contenere dei valori anche di tipo diverso giusto quindi voi potete avere una variabile che prima conteneva una stringa e poi metterci un numero dentro questo in c assolutamente non si può fare in python si può in javascript anche ok abbiamo tutta una serie di tipi primitivi di nuovo tipo associato al valore stringhe di nuovo come in python doppi apici singoli apici fa lo stesso anche col backtick number numeri numeri interi numeri con la virgola sono tutti number in questo caso boolean vero falso e poi abbiamo anche i valori predefiniti null e undefined ok abbiamo poi un'altra categoria di valori che sono gli oggetti anche in javascript come in python tutto è un oggetto in pratica quindi gli array sono un oggetto le funzioni sono un oggetto così come python e possiamo avere anche oggetti definiti direttamente dall'utente quindi si può in qualche modo programmare ad oggetti anche con javascript anche se non non lo vedremo molto poi il concetto di truth e falsi l'avete visto anche in python penso spero una variabile booleana può contenere due valori vero o falso però qualunque espressione può essere controllata in un contesto booleano e una espressione può essere valutata come truti quindi un'espressione che restituisce vero o falsi un'espressione che valutata in un contesto booleano è falsa ok e i singoli valori possono anche essere truti e falsi ad esempio questi valori qui se valutati in un contesto booleano sono falsi banalmente if zero zero è falsi non entrerò mai in quella if ok meno zero è sempre zero è falsi anche lui nota number n a n lo vedremo dopo credo è lui stesso un numero ma è quello che vi viene ritornato quando provate a fare un'operazione sbagliata ad esempio dividere per zero la divisione per zero restituisce un nota number un qualcosa che è un numero ma in realtà non è un numero anche questo è falsi undefined è falsi null è falsi la stringa vuota è falsi quindi un modo per controllare ad esempio che l'utente abbia inserito veramente un input è ad esempio controllare if stringa ok se la stringa è vuota se la stringa non è vuota entriamo nella if altrimenti nella else e possiamo in quel modo controllare la stringa l'input tutti gli altri valori che non sono presenti qui sono truti quindi il 3 ad esempio è un numero diverso da zero e valutato in un contesto booleano è truti questo perché è truti perché non è una stringa vuota non è il false ok vedete che c'è false ma ci sono i due apici quindi è in realtà una stringa l'array vuoto è truti questa è una differenza con python dove strutture dati vuote sono in realtà falsi in questo caso è truti così come l'oggetto vuoto è anche truti in questo caso comparison come facciamo a confrontare due oggetti due variabili ad esempio abbiamo due possibilità il doppio uguale tradizionale a uguale uguale b e anche il triplo uguale tre uguali di fila qual è la differenza? il primo il doppio uguale prima di effettuare il confronto cerca di convertire i tipi se questi tipi sono diversi nel senso facciamo un esempio pratico facciamo una if poi le if le vediamo in seguito ma non importa allora io qui sto facendo un confronto e mi sto chiedendo se sei numero è uguale uguale a sei stringa cosa stampo secondo voi? stamperò questo ok? anche se in realtà a primo impatto a prima vista queste due cose sono veramente diverse uno è un numero l'altro è il carattere sei quindi una stringa in realtà con l'uguale uguale quello che facciava script è prima di effettuare il confronto provo a fare a convertire i tipi affinché matchino sostanza prende sei stringa lo traduce come numero e poi lo confronta col sei numero ok? quindi vediamo se è vero se non ho detto cavolate questo è ancora di prima direi di sì i due dati sono uguali questo con il doppio uguale se io invece utilizzo il triplo uguale a questo punto questa conversione non avviene e confronto veramente in questo caso me ne compere e direi che in questo caso la stampa sarà la seconda ok? quindi è bene avere in mente la differenza tra questi due tipi di confronto e direi utilizzare il primo quello col doppio uguale solo se veramente sappiamo quello che stiamo facendo altrimenti il consiglio di nuovo è usare sempre il triplo uguale e in questo modo evitiamo questa conversione automatica di cui potremmo non rendercene conto numeri number non c'è distinzione tra numeri interi e reali c'è questa conversione automatica seconda dell'operazione va bene c'è anche il tipo bigint per avere variabili con numeri veramente grandi ma direi che questa è tutta roba che possiamo coprire molto velocemente ci sono alcuni valori speciali l'undefined l'undefined è un valore per quelle variabili che sono dichiarate ma non inizializzate ok? vedremo dopo come dichiarare variabili ma un modo di utilizzare la keyword let let variabile l'ho solo dichiarata contiene undefined let variabile uguale a 5 l'ho dichiarata e inizializzata contiene il valore 5 va bene poi c'è il valore null null l'empty value e questi due valori null e undefined sono anche chiamati in gergo javascript nullish values ok va bene nn l'ho menzionato prima nota number è in realtà un numero che però ci rappresenta un output invalido dato da un'operazione aritmetica o da operazione di parsing ad esempio quando cerchiamo di convertire una stringa in un numero se questa stringa non è in realtà un numero ma contiene delle lettere ad esempio il risultato è che nella variabile abbiamo nota number o variabili come in python le variabili sono dei puri riferimenti si riferiscono a un un valore e la stessa variabile si può riferire a diversi valori anche di tipo diverso durante l'esecuzione del programma quindi in questo box qui abbiamo la variabile v che prima contiene 7 v uguale a 7 e poi ci mettiamo una stringa che va a sovrascrivere il valore 7 così come in python abbiamo tre modi direi quattro modi di definire variabili in javascript il primo è l'originale quello che vedete qui non scrivere niente davanti al nome della variabile v uguale 7 caldamente sconsigliato abbiamo invece tre keyword che possiamo inserire davanti al nome della variabile let const e var dove i primi due let e const sono quelli suggeriti vediamo le differenze allora se usiamo let ok stiamo definendo una variabile a cui possiamo riassegnare un valore ovviamente questo funziona nella modalità use street definita con let possiamo riassegnarci un valore cioè possiamo dire let a uguale 5 e poi durante l'esecuzione del programma dire a uguale 7 è lecito farlo quello che non è lecito fare è ridichiarare la variabile cioè avere due let a nello stesso programma ok in realtà nello stesso nello stesso scope vedremo tra un attimo il concetto di scope e dichiarando una variabile con let stiamo vietando questa cosa qui che ho già spiegato prima l'holzing che è quello di utilizzare di poter utilizzare una variabile prima di averla definita ok quindi se è definita con let non possiamo usarla prima di averla definita const const invece come dice la keyword è per le costanti quindi oltre a non poter essere ridichiarate ovviamente non possono neanche essere riassegnate cioè un qualcosa che è const rimane costante per tutta la durata del programma ok abbiamo poi var che possiamo sia ridichiarare che riassegnare cioè potremmo avere potenzialmente var a in un certo punto del programma e dieci righe sotto di nuovo var a questo di nuovo era per le versioni precedenti di javascript ed è sconsigliato meglio usare let e const che ci vincolano un po' a usare meglio queste variabili se non mettiamo nessuna keyword avanti di nuovo possiamo fare tutte le porcherie che vogliamo ma meglio non farlo ed è proibito in strict in strict mode quindi se io vado tanto per visualizzare quello che ho appena detto definisco una variabile qui è sempre use strict di default ma possiamo scriverlo definisco una variabile a in cui metto il valore 6 7 avrò altre istruzioni non posso ovviamente dire let a uguale 9 se faccio questo in strict mode vedete già me lo dice addirittura prima di eseguire il programma l'identificativo a è già stato dichiarato ok non posso farlo posso però fare ovviamente questo cioè assegnare un valore ad a e poi cambiare questo valore questo in teoria vedete che me lo lascia fare ok a è passato da 7 a 9 questo era di prima se uso const questa cosa qui invece non la posso fare perché è una costante e dovrà contenere per tutta l'esecuzione il valore 7 quindi qui a inizializzato a 7 e a 7 deve rimanere altrimenti ricevo questo questo errore quindi const e var const e let sono le due keyword suggerite che dovremmo usare nei nostri programmi qui direi che dice quello che fa vedere quello che ho fatto vedere io o dicevo che questi vincoli di non poter ridimare ridichiarare una variabile nel caso di let e ridichiarare e riassegnare nel caso di const valgono all'interno del cosiddetto scope quindi quindi non è vero che non si può ridichiarare o riassegnare per l'intero programma ma non lo si può fare nello scope corrente della variabile lo scope è un blocco di esecuzione in cui la variabile è definita e usata ad esempio in questo programmino qui ci fa vedere che noi possiamo creare un nuovo scope un nuovo blocco di esecuzione con le parentesi graffe queste due parentesi graffe qui aperte e chiuse creano un nuovo scope in cui potenzialmente io posso ridichiarare a vedete che qua c'è la stessa variabile a con let dichiarata due volte let a qui all'inizio e let a qui questo è lecito perché sono due scope diversi con queste graffe qui sto creando un nuovo scope ok ovviamente di solito non creiamo dei nuovi scope in questo modo questo è un po' un modo per circunnavigare questo vincolo ma sappiate che se c'è un nuovo scope nel vostro programma ad esempio in una funzione una funzione un nuovo scope li potete ridichiarare variabili che avete già utilizzato e queste variabili esistono solo nello scope in cui sono definite e negli scope interni ovviamente voi potete anche avere degli scope innestati dei blocchi innestati in altri scope e vedete le variabili definite sopra ovviamente potenzialmente alcune espressioni questa è una lunga lista partiamo dall'assegnamento vabbè facile uguale singolo per l'assegnamento questo dovreste saperlo quindi variabile uguale quello che ci vogliamo mettere nella nella variabile e qui avete anche un lungo elenco di possibilità che potete avere con questo assignment mi sembrano tutte abbastanza ovvie x più uguale y vuol dire x uguale x più y però se avete visto python e qualche linguaggio di programmazione in generale dovreste conoscere questi tipi di assegnamenti lo potete fare anche ovviamente con il pair x per uguale y vuol dire x uguale x per y e poi avete anche cose più assegnamenti un po' più strani che potete se siete interessati di guardarvi purtroppo come dicevo collassare tutto in tre ore è molto difficile confronto invece l'abbiamo già visto direi quindi il doppio uguale cerca anche di convertire i tipi ovviamente avete anche il diverso e anche nel diverso occhio che avete questa possibilità di avere diverso uguale o diverso uguale uguale dove il primo cerca di convertire i tipi il secondo invece no ok quindi di comparison abbiamo già parlato ok invece quando si tratta di oggetti ovviamente ovviamente se usiamo l'uguale uguale o il triplo uguale stiamo comparando il riferimento dei due oggetti quindi questo confronto sarà vero solo se stiamo confrontando lo stesso oggetto in sostanza quindi se abbiamo due oggetti che hanno le stesse proprietà ad esempio qui vedremo dopo come definire oggetti ma vediamoli tipo dizionare in python per il momento abbiamo A che ha questa coppia x 2.1 e abbiamo B che ha questa coppia di nuovo x 2.1 sono due oggetti identici ma se li confrontiamo con l'uguale uguale o il triplo uguale riceviamo un bel false perché stiamo confrontando in realtà il riferimento di questi oggetti che è ovviamente diverso ok questo è chiaro quindi il controllo tra oggetti in questo modo ritorna true solo se stiamo confrontando esattamente lo stesso oggetto tipo A uguale uguale A quindi occhio ci saranno altri modi per confrontare gli oggetti che vedremo il contenuto degli oggetti che vedremo a breve ok direi che questo possiamo saltarlo potete anche avere operatori logici tipo AND e OR ovviamente ad esempio in un contesto booleano potete unire varie condizioni tramite AND e OR AND doppia AND la OR la doppia barra e va bene e il NOT ovviamente è il punto esclamativo cioè ovviamente no ad esempio in Python è la keyword NOT ma qui abbiamo il punto esclamativo come come in C vabbè gli operatori più comuni la più avete l'opportunità di incrementare il contenuto di una variabile col più più col meno meno quindi incrementando decrementando di uno vabbè la moltiplicazione l'operazione modulo eccetera tutte cose che se non vi ricordate potete andare a consultare sulle slide o sulla documentazione man mano che faremo gli esercizi utilizzeremo questi operatori comuni abbiamo anche un oggetto globale MAT che ci offre anche qui una serie di funzioni strumenti di nuovo non stiamo lì a leggerle tutte ma se vi serve calcolare il seno di un angolo c'è MAT punto seno eccetera eccetera ok logaritmo il minimo eccetera if e else qui siamo di nuovo come sintassi più vicini al C che al Python abbiamo if aperta parentesi tonda la condizione chiusa parentesi e poi le graffe come in C e quindi dividiamo i vari blocchi con le graffe anziché con gli spazi come in Python c'è il punte virgola dopo i vari statement possiamo avere l'else generico oppure l'else if non come in Python l'elf qui è else if per specificare delle condizioni aggiuntive con un else finale in questo caso possiamo anche avere lo switch con i vari case di nuovo più simile al C che al Python qui sto andando veloce perché mi sembrano cose che poi potete imparare durante gli esercizi e molte di queste cose in realtà le sapete già i cicli allora anche qui più simile al C che al Python almeno in questa slide qui abbiamo ciclo for il do while e il while un po' come in C potete scrivere cicli for in questa versione qui dove avete for poi tre parametri all'interno del parentesi tonde un'inizializzazione di una variabile una condizione vai avanti finché e lo step di incremento ok ad esempio for aperta tonda let a uguale a 1 facciamolo così lo figuriamo meglio for una inizializzazione di una qualche variabile ad esempio let a uguale a 1 fino a quando a è minore di 10 a più più ok questo per chi ha visto il C è ovviamente ovvio per chi non l'ha visto magari meno quindi ho questo indice che inizializzo a 1 vado avanti nel ciclo finché questo indice è minore di 10 e ad ogni passo incremento di 1 questo indice console.log a ad esempio punto e virgola vediamo un po' vedete e questo va avanti se noi eseguiamo fino all'ultima riga vedete questo è relativo a prima vedete che nella console ho i miei numeri da 1 a 9 quindi 9 giri del ciclo ovviamente se qui metto a dire la verità non so non lo so ma se metto const mi sa che questa roba non funziona perché sto cercando di modificare a vediamo se è vero e infatti in un ciclo ovviamente questo indice è variabile va avanti da 1 a 9 in questo caso non può essere const ovviamente ok vediamo se è l'ora di fare una pausa si poi abbiamo il do while e il while come in c fatemi solo vedere si finiamo solo questi i cicli poi facciamo la pausa abbiamo anche due for più speciali più simili al python in javascript il primo è for variabile in oggetto ok in sostanza questo ciclo for itera sulle proprietà di un oggetto ok non usate questo ciclo for ad esempio per scorrere un array anche se potrebbe sembrare utile a questo scopo in realtà l'esempio è più esplicativo di mille parole for let ha in questo oggetto li vedremo alla fine gli oggetti ma di nuovo immaginatevi come dizionare in python abbiamo due proprietà in questo oggetto x e y una vale 0 l'altra vale 3 con questo ciclo for andiamo a enumerare le proprietà no le chiavi qui dell'oggetto in sostanza stampiamo x e y ok quindi è un ciclo che si può usare per iterare sulle proprietà di un oggetto se invece volete scorrere un qualcosa che è iterabile tipo un array utilizziamo questo for variable of iterable quindi quando dovete scorrere un array ad esempio utilizzate of al posto di in ad esempio qui for let a of questo array di due elementi 4 e 7 qui si veramente vado a prendere i singoli elementi dell'array 4 e 7 4 al primo giro 7 al secondo posso farlo anche sulle stringhe anche le stringhe sono iterabili quindi questo è il modo per scorrere carattere per carattere una stringa ok in e off hanno due usi diversi ci sono poi altri metodi di iterazione che non credo vedremo in questo corso che sono metodi funzionali non abbiamo davvero tempo di affrontare questo argomento c'è ad esempio il metodo for each che è associato ad un array quindi array punto for each e tra parentesi tonde gli do un riferimento a una funzione che sarà una funzione che verrà applicata ad ogni singolo elemento dell'array ok quindi ho questo array punto for each gli passo una funzione e in sostanza questa funzione riceverà in automatico tramite questo metodo for each un elemento per volta dell'array a in questo caso e su questo elemento potrò fare quello che devo fare ad esempio modificare l'elemento aggiungerci uno toglierci cinque eccetera però di nuovo non credo che avremo tempo di vedere questi metodi in questo corso di introduzione all'applicazione web chi farà poi web application 1 nel corso della magistrale vedrà anche questi questi argomenti exception handling try catch quindi non è try accept come in python è try catch cambia solo la keyword vabbè anche qui abbiamo le graffe a differenza di python ma va bene sapete già come gestire eccezioni una volta imparato per un linguaggio direi che il concetto è simile potete catturare diversi tipi di eccezione come ho mostrato qui potete anche avere una clausola di finally che viene eseguita in ogni caso alla fine del blocco try catch ok direi che la prima ora e mezza è andata facciamo un quarto d'ora di pausa e poi di nuovo parlerò per un'ora e mezza purtroppo oggi è così grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti